L'onidì 3 maggio, buongiorno, ben ritrovati cari telespettatori di FanoTV, questa è Occhio ai giornali, la rassegna stampa o meglio il commento alla stampa del giorno con i due giornali, il Corriere Adriatico e il resto del Carlino che abbiamo come sempre qua sul nostro side screen e che tra poco vedremo, abbiamo selezionato alcune pagine dei quotidiani questa mattina e che commetteremo appunto tra un istante, adesso andiamo però a dare un sguardo al tempo perché dopo le piogge e ancora qualche insomma un po' di freddo dovrebbe migliorare questo tempo, vediamo un po' che cosa ci attende, però prima ci abbiamo il santo, i santi anzi Filippo e Giacomo Apostoli, il sole è sorto alle 5.58 e tramonterà alle 20.18. Trebimeteo.com che ci annuncia una nuova settimana con più sole ma ancora acquazzoni in agguato, il clima non è ancora caldo, lunedì perturbazione dal Nord Africa, ecco dove colpirà e vediamo nel dettaglio la nostra regione con alcune velature al mattino, il pomeriggio queste velature rimangono nella zona centro-meridionale ma quella pesarese, vedete in alto, sarà più terza come giornata mentre la serata proseguirà così, insomma senza nulla da segnalare in particolare così come nella giornata di domani, mattino, pomeriggio e sera, soltanto il pomeriggio qualche nuvoletta, ma un po' tutta la settimana sarà così, non dovrebbe tornare la pioggia. Allora ci sono alcune cose, intanto facciamo uno sguardo ai titoli delle prime pagine dei giornali, questo è il Corriere Adriatico di Pesaro, No Orario, è un gruppo organizzato che protesta contro il coprifuoco, si sono dati appuntamenti in varie parti d'Italia, a Pesaro, alla Palla di Pomodoro la sera del primo di maggio e per queste persone che hanno manifestato 100 euro, anzi non 100 euro, in 100 sono stati multati, il raduno di questi disobbedienti contro il coprifuoco finisce con una raffica di verbali da 400 euro, un giovane è stato denunciato per aver sferrato calcio all'auto della polizia, i manifestanti dicono faremo altri presidi. Mentre a centropagina lo sport, con Fano K.O. ora i play-out con Limolese, mentre la vis Pesaro ormai salva, cede in casa, ma è una sconfitta cosiddetta dolce. Il ritorno di chi? Di Paola Merloni, la sfida di Maria Paola Merloni, una macchina che farà gelati, una macchina tecnologica 4.0. Il ritorno di Maria Paola Merloni, dopo il libro su Papà Vittorio, edito per Marsiglio lo scorso autunno, l'ex presidente di Confindustria, Marche e parlamentare, torna nel mondo degli elettrodomestici. Ha fondato TUA a Fabriano, azienda che dal prossimo autunno commercializzerà macchine per fare gelati singoli in casa, riprendendo il concept delle macchine da caffè. Dunque, se tutto andrà bene, potremmo fare il gelato praticamente in casa, grazie a questa nuova macchina che produrrà questa azienda, qui capo. Insomma, ci sarà Maria Paola Merloni. Poi caos, invece, all'ex Ristò a Pesaro per le sovra-prenotazioni, overbooking, mentre per Vallefoglio e Montelabate, che sono le due città della provincia di Pesorbino in zona arancione, o comunque zona arancione rafforzato, zona rossa, i contagi sono cruciali. Controlli al mare, locale della Movita invece a Fano, ora dovrà chiudere, vedremo tra poco di quale locale si tratta. Poi il lavoro è sempre più sfruttato e precario, l'appello del Vescovo Trasarti agli imprenditori. E adesso il carino di Pesaro con Carabiniere Ristò, questa è la fotonotizia, in tanti sollevano dubbi su AstraZeneca, tempi d'attesa infiniti, ieri mattina la rabbia esplosa fino a richiedere l'intervento del 118 per fare i vaccini, insomma una fila infinita e anche proteste. Poi basta coprifuoco, poche mascherine, multe in arrivo, la protesta alla palla di pomodoro di Pesaro. Niente ombrelloni alle comitive di ragazzi, l'appello di Ricci, Ricci che si schiera con questi giovani che lo stanno contattando perché questi ragazzi che vogliono, vorrebbero intanto cominciare a prenotare gli ombrelloni, di solito fino a due anni fa si faceva così, insomma le comitive di ragazzi si preparavano per andare tutti quanti nello stesso posto, sesta spiaggia, stesso mare con tutta la comitiva. In realtà quest'anno i bagnini stanno facendo di tutto per non prendersi in carico queste comitive, preferendo invece gli adulti, le coppie, un target più maturo. E quindi questi giovani non sanno dove andare durante l'estate, non sanno perché non hanno trovato ancora bagnini disposti ad accoglierli. E allora è qui appunto il sindaco Ricci che lancia questo appello ai bagnini. Sempre dalla prima pagina del resto del cadino Covid, guardia alta, tornano a salire i ricoveri, purtroppo, questa è un'altra notizia sulla quale ci soffermeremo un attimo, purtroppo insomma con le scuole aperte e in presenza c'è un aumento del numero dei contagi. La differenza come vedremo rispetto a prima è che oggi ci sono i vaccini e quindi le persone che hanno sopra gli 80 anni in questo caso si salvano. Però c'è una incidenza molto importante tra i giovanissimi. I 42 chilometri invece di Luca sulla sedia a rotelle è un'impresa senza confini, una storia raccontata sempre dal carino a pagina 8, mentre lo sport di taglio basso, Vis passa il Sud Tirol, la sconfitta più dolce, poi Alma K.O. a Gubbio, play out con Limonese. Andiamo a vedere velocemente il carino di Ancona perché la fotonotizia è per la figlia di Carlo Urbani che è morta qualche settimana fa, Maddi bloccata alla cremazione, anche la figlia di Carlo Urbani vittima dello scandalo dei cimiteri a Roma. Poi vaccini a rilento, mancano le dosi, brusca frenata per la campagna, slittano le prime somministrazioni per almeno una settimana. Corriere Adriatico, dunque la scuola dal vivo rialza le curve, questo è il titolo, ma i vaccini difendono gli anziani, contagi in aumento nelle fasce fino a 24 anni, casi ridotti ad un quinto tra gli over 80 dopo i richiami. Dunque le elezioni in presenza fanno risalire le curve dei contagi nelle classi d'età più giovani, mentre l'avanzata della campagna di vaccinazione piega verso il basso le curve dei positivi negli over 80, positivi raddoppiati in un mese tra i bimbi addirittura delle scuole materne, quindi parliamo di bambini che hanno tra i 3 e i 5 anni, ma così anche nelle scuole medie tra gli 11 e i 13 anni c'è un rialzo notevole. Adesso vedremo poi se queste giornate del primo di maggio porteranno rialzi tra qualche settimana tra le persone, insomma, dai 20 ai 20, 40, 60 anni, insomma. E anche i ricoveri, i ricoveri sono in Catalena, due decessi in 48 ore, lieve calo nel numero dei posti eletto occupati, ma ci sono anche qui segni di rialzo nell'ultima settimana, ci sono stati anche nella fascia d'età 19-24 anni, quella che ricomprende anche gli universitari, con i contagi saliti da 143 a 153. Ad aprile l'età media dei contagiati è scesa da 47 a 40 anni. Intanto qui a sinistra, vedete, c'è nel Corriere Adriatico questo elenco dei comuni con più contagi nel mese di aprile, dove in testa alla classifica con 636 positivi c'è la città di Pesero, poi c'è Ancona 443, Fano 408, Macerata 364, poi Ascoli 359, poi ancora a scendere giù San Benedetto 261, ma vedete com'è la differenza tra San Benedetto e del Tronto, per esempio 261, e Pesero che ne ha tre volte tante, insomma, ecco, fino a scendere giù l'ultimo di questa classifica è Potenza Picena, 80 casi, Fossombrone 83, è proprio Fossombrone nei giorni scorsi, il sindaco lo abbiamo ricordato anche in Rassegna Stampe, nel nostro telegiornale il sindaco diceva, insomma, di stare attenti perché Fossombrone stava registrando un aumento di contagi. Intanto dicevamo di questa protesta del primo di maggio, in orario alla palla di Pomodoro, sanzioni per oltre 100, ma faremo altri sit-in, dice l'organizzatore Alessio Canalini, Alessio Canalini dovrebbe essere questo signore qua, eccolo qui, che ha organizzato qui nelle Marche questa iniziativa, tra loro c'erano anche dei gestori di locali, liberi professionisti, insegnanti, dipendenti, qualcuno anche attivo nel volontariato, si sono dati appuntamento e chiaramente sapendo di fare qualcosa che non era lecito, ma per protestare, per protestare contro il coprifuoco alle 22, contro le mascherine, i vaccini, insomma, contro tutto quello che è il sistema. Diciamo che è andato tutto abbastanza bene, nel senso che queste persone erano lì, protestavano, insomma, dicevano la loro, l'unica denuncia, come racconta Thomas del Bianco sul Corriere Adriatico questa mattina, è scattata intorno alle 11 di sera, per quale motivo? Perché un giovane è stato segnalato per resistenza a pubblico ufficiale, violenza e rifiuto a fornire le proprie generalità. Un pesarese di 25 anni che non voleva dare i documenti, che ha reagito al sollecito, sferrando un calcio all'auto di servizio dei poliziotti. Sempre sul Corriere Adriatico di oggi, piove, c'è stato un fuggi-fuggi dunque all'interno del locale e il Green Bar dovrà chiudere al Lido di Fano controlli della Polizia Locale e dei Carabinieri, 6 le persone multate perché trovate senza mascherina. Dunque clienti dentro un locale su Lungomare, sono intervenuti gli agenti, il primo di maggio con una sanzione contro gli assembramenti. In simili casi si tratta di una multa amministrativa pari a 400 euro e 5 giorni di sospensione dell'attività in attesa che sia la profettura a pronunciarsi sulla durata complessiva della chiusura. Diciamo che il locale, scrive il giornale finito del Mirio nel Green Bar, nella zona del Lido, uno dei più noti della Movida. Nella giornata di ieri sempre il Green Bar era aperto, non essendogli è stato notificato ancora il verbale da parte delle forze dell'ordine, ma poi in questo articolo si legge appunto anche di controlli da parte di Polizia Carabinieri eccetera sul Lungomare e alcune persone sono state fermate, multate perché non indossavano la mascherina. Intanto vedete sempre sul Corriere, su questa pagina, niente ombrelloni per le commettive di ragazzi. Ricci lancia un appello ai gestori delle spiagge, dice mi hanno scritto tanti ragazzi, continua il Sindaco, perché non riescono a trovare l'ombrellone. Solleciteremo i gestori, scrive Ricci, ma allo stesso tempo ricordo anche che quest'estate allestiremo spiagge libere con i servizi e quindi se non è possibile andare ai concessionari ci sono le spiagge libere che però sono attrezzate e quindi hanno un minimo di servizi. Allora, sovra prenotazioni, troppe prenotazioni, caos all'ex arresto, ecco sarebbe stato questo un titolo italiano questa mattina più comprensibile, invece overbooking per le prenotazioni. Caos all'ex arresto, arriva la Polizia mattinata infernale al centro vaccini, dato il doppio di appuntamenti di quelli che si potevano smaltire e quindi più gente rispetto alle siringhe disponibili e quindi di conseguenza tanti malumori, tanta agitazione e poi più passa il tempo in questi casi e più la rabbia si alimenta di bocche in bocche, quindi possiamo immaginare quello che poi è accaduto nel corso di questa mattinata che viene raccontata sul Corriere Adriatico di questa mattina da Letizia Francesconi. Poi contagi, l'altalena degli ultimi dati, arancione rinforzato oggi, c'è una verifica, cala l'incidenza provinciale, ieri è crollato il numero dei tamponi, però sperano Vallefoglia e Monte Labbate che sono ancora i due locali, lo ricordiamo che sono ancora in fascia arancione o fascia rossa, insomma c'è questa verifica cruciale, quella del servizio sanità della regione attesa oggi sull'andamento dei contagi di Covid-19 in provincia di Piazza Urbino, in particolare i comuni Vallefoglia e Monte Labbate che sperano dunque di tornare da mercoledì in zona gialla e negli altri territori che per il trend delle infezioni temono al contrario di tingersi di arancione in base al principio, secondo il quale scattano limitazioni locali agli spostamenti con il superamento dell'incidenza di 250 nuovi positivi ogni 100.000 abitanti. In sostanza cosa significa? Che mentre Vallefoglia e Monte Labbate sperano di tornare in zona gialla ci sono comuni, come abbiamo appena detto poco fa, come Fossombrone che vede l'arancione avvicinarsi, perché? Perché c'è l'aumento di questi contagi. Però oggi si capirà meglio, avremo oggi nella cabina di regia regionale le idee un po' più chiare. Intanto sempre a Fossombrone, all'ambulatorio dell'ospedale, si somministrano gli anticorpi monoclonali. Si parte oggi dopo Marche Nord e quindi un'opportunità per tutta l'area vasta. Da oggi attivo nell'ospedale di comunità di Fossombrone, unico per ora all'interno appunto di tutta l'area vasta, un ambulatorio per la somministrazione di anticorpi monoclonali, così come è sottolineato il sindaco di Fossombrone Gabriele Bonci. Si tratta di cure destinate a pazienti Covid positivi tramite infusione, quindi una flebo, pazienti che potrebbero essere a forte rischio a causa di patologie pregresse. Ricordiamo che i monoclonali vanno somministrati soltanto nella prima fase, entro un paio di giorni, qualche giorno, non troppi giorni insomma. Sul Carlino di Pesaro, a pagina 3, vogliamo la libertà di stare fuori fino a tardi. Un centinaio di persone sfidano il coprifuoco, manifestazione la sera del primo di maggio dei senza mascherina contro il rientro in casa alle ore 22. Saranno tutti sanzionati per 400 euro. Si sta discutendo molto in tutta Italia sulla efficacia, sull'opportunità o meno di continuare a impedire alle persone di uscire alle 10 di sera, dopo le 10 di sera, tenendo conto anche del caldo, del fatto che si va verso la bella stagione, eccetera, ma soprattutto tenendo conto anche, al di là dell'indice di sopportazione umana che sta scendendo ai minimi storici, ma al di là di questo, molti ormai si sono organizzati. Un conto è all'inizio di questa pandemia, quando il senso del coprifuoco era rispettato, era forte. Adesso la gente si organizza, i giorni si ritrovano da altre parti, non è vero che stanno a casa, quindi si nascondono più che altro, ma escono, si vedono comunque. Per il resto, ecco, non so se sia il caso di continuare o meno, insomma. Ma anche 11, mezzanotte, orario, o c'è o non c'è, secondo me, arrivati a questo punto, serve a poco, anche perché la fascia, diciamo, più debole ormai è quasi tutta protetta. Caos vaccinazione, arrivano i carabinieri, avendo fatto accorrere 480 persone per richiami Pfizer e 155 over 65 per le prime dosi di AstraZeneca, ci sono state le proteste, urla e rifiuti, perché i rifiuti sono ovviamente su AstraZeneca, perché quando uno arriva lì molti ancora, quando vedono che c'è AstraZeneca, tornano indietro e potete immaginare se uno è stato lì un paio d'ore ad aspettare poi sul più bello, che pensa di fare il vaccino, si ritrova a AstraZeneca, è inevitabile che uno poi protesti, urli o faccia altro. Quindi questo è un po' il racconto di Roberto Damiani e sul resto del Carlinio di quello che è successo il primo di maggio. L'arrivo delle forze dell'ordine è servito, ma un pensionato è stato addirittura allontanato. Primo maggio, tutti fuori, assalto ai ristoranti. Ecco qua, qui non c'è coprifuoco che tenga. Di Remigio, dei ristoratori pesaresi, dice, non possiamo certo lamentarci, ma il grado il vento, la nebbia e la pioggia, molte le richieste dei gruppi di pranzare insieme, ma i ristoratori hanno detto di no. Infatti, lo ricordiamo, il decreto prevede quattro persone per tavolo, quattro dello stesso nucleo familiare, legati alla parentela, tutti gli altri, quindi comitivi, amici, eccetera, non si potevano fare, non si possono fare né pranzi né cene all'aperto. Addio a Gigi della Fornarina. È morto a 78 anni il titolare del celebre ristorante Urbinate. Il funerale sarà domani in Cattedrale. È morto l'altro ieri Luigi Simoncelli, 78 anni, imprenditore titolare del noto ristorante La Fornarina, già socio di altri locali cittadini, lascia la moglie Mercedes, i figli Marica e Massimiliano, la nipote Andrea Vittoria, fratelli e sorelle. Il funerale si terrà domani alle 15 in Duomo. L'inaugurazione sarà al cimitero, scusate, l'inumazione sarà al cimitero di San Bernardino. Su di lui pubblichiamo un ricordo, un ricordo appunto di questo ristoratore. Colle Marathon, una sfida in sedia a rotelle. Invece è la notizia da Fano, sul resto del Carlino, di questa persona che appunto affronterà questa sfida sulla sedia a rotelle, lui si chiama Luca Panichi, campione Umbro diversamente abile che ha coperto la sua sedia a rotelle a tutti i 42 chilometri della Colle Marathon, la Maratona Internazionale Barchifano, in programma del 2003 ogni prima domenica di maggio, che per il secondo anno consecutivo ovviamente è stata annullata a causa della pandemia. Poi c'è anche un po' di cronaca, fumo da casa, sventa un incendio, ha visto il fumo dalla casa della vicina, si è subito precipitato a spegnere il principio di incendio, questo è successo venerdì a Fossombrone, il protagonista è stato Federico Aguzzi, detto Duzzo, che è finito anche sul giornale ieri sul Corriere Adriatico. Lavoro è sempre più precario e sfruttato, un vescovo lancia l'appello all'imprenditoria, Monsignor Trasarti esalta il ruolo di servizio dell'azienda e denuncia nelle cooperative sociali come schiavi. Il lavoro è centrale nella vita ed ha dignità alla persona, ma la pandemia l'ha reso sempre più precario, accentuando il divario tra chi è garantito e chi è privo di tutele. Il primo maggio, dunque festa del lavoro, Monsignor Trasarti ha presieduto la celebrazione diocesana di San Giuseppe lavoratore nella chiesa di Villa Bassa al prelato, l'occasione per il vescovo per un'analisi senza ipocrisie delle fragilità economiche e sociali intercettate dall'opera creativa delle parrocchie con un forte appello all'imprenditoria perché investa sulle persone, accentuando la funzione sociale dell'impresa come obiettivo prima ancora del profitto. Stavo pensando nei giorni scorsi una cosa che sicuramente farà imbufalire coloro che sono statali. Sarebbe stato bello magari a un certo punto dividere metà stipendio degli statali, darlo a tutti quelli che non ce l'hanno o che lo hanno perso, perché quando si soffre, si soffre tutti o non è giusta questa disparità, quindi sarebbe stato bello anche a posto dei ristori che non arrivano, eccetera, metà del mio stipendio da statale lo do a quello che non ce l'ha, eccetera, eccetera. Però questo è un discorso un po' troppo complicato che so che già farà storcere la bocca a qualcuno. Le spiagge riaperte arrivano subito i ladri, ride notturno a Ponte Sasso in due concessioni, presi denaro e strumenti di lavoro. Ride ladresco quindi negli stabilimenti di Ponte Sasso di Fano durante la notte fra sabato e domenica scorsi, per i titolari neanche il tempo di rimboccarsi le maniche e preparare la nuova stagione turistica che qualche marguolo li ha subito presi di mira per fare bottino. E poi da terre roveresche abbiamo la notizia che il sindaco Sebastianelli dice noi non vogliamo il biodigestore, quindi daremo un parere negativo. Sebastianelli conferma l'orientamento del progetto Ferroni a Barchi e il 12 la conferenza dei servizi. Il sindaco è strano alle dinamiche tra i gestori Aset e Marche, molti servizi. Un mazzo di fiori invece per il pescatore morto. Il pescatore morto è quello che è stato trovato l'altro giorno sulle rive del fiume Metauro. Ha suscitato in pressione la vicenda del moldavo sessantenne che è deceduto a seguito di un malore da fissare la data del funerale. L'uomo era esperto, forse voleva prendere i gamberi, visto che aveva la muta. E queste fotografie appunto del luogo, vedete questa ragazza, questa donna che mette giù questo mazzo di fiori per ricordare questo uomo sui 60 anni. Un omaggio alla memoria di quel pescatore che quasi tutti i giorni arrivava trafelato in sella alla sua bici da parte di una donna che ha messo questi fiori, che spesso lo incontrava vivendo in una casa ridosso dell'argine. Il corpo, recuperato dall'unità di soccorso acquatico dei vigili del fuoco, è stato sottoposto ad ispezione cadaverica da parte del medico legale presso l'obitorio dell'ospedale Santa Croce, scrive Marco Derrico. Questa mattina sul giornale, tra l'altro sempre sulla pagina di Fano, Anna Marchetti invece sui di Taglio Basso si scrive di questi vandali in azione lungo la spiaggia di Ponte Sasso, rubati soldi dalla cassa e anche degli attrezzi, preoccupazione per gli atti contro le attività commerciali. Mentre da Urbino Università, la ripartenza che sprona l'intera città, Urbino Capoluogo non ha dubbi, senza i turisti solo gli studenti possono aiutare. Mentre Borgo Marcatale, progetto da rilanciare, e qui si parla di un po' di politica. Poi correte, ai tavoli c'è troppa gente, a Senigallia SOS il ristorante, irrompe la polizia di Verbio tra due gruppi di giovani, il titolare chiede aiuto, allontanati gli intrusi vandali nei parchi. Quindi anche a Senigallia, un po' come è successo a Pesero a Fano, un po' in tutte le città di mare, in occasione del primo di maggio, insomma, si sono registrati momenti di caccia alle streghe. Addio a Corleoni, ex capo dei Vigili del Fuoco, fino al 2008 alla guida del distaccamento di Senigallia, il dolore dei colleghi. Aveva 69 anni, aveva guidato la sede di Senigallia lungo l'Arceviese, fino al 2008. E ovviamente molto stimato da tutti i Vigili del Fuoco, ne guidava 37 prima di andare in pensione, e si era sempre battuto per loro. Credo che siamo alla pagina di Sport, sì, l'ultima pagina l'abbiamo riservata al Fano, perché abbiamo detto che la Viz Pesero si è salvata, quindi nonostante abbia perso, ma comunque ha messo, è ipotecato la salvezza, e quindi a posto. Adesso il problema è il Fano. L'Alma Juventus-Fano, che ha perso a Gubbio per 2-1, non approfitta del tonfo del Limolese, al play-out, dunque Granata, partiranno in svantaggio. Barbutis prega un rigore, e Scimia coglie un palo, dopo il primo gol degli Umbri, decide Sainz-Mazza. Dunque il Fano spreca un'occasione. Due pagine sul Corriere Adriatico, che si riferiscono appunto allo sport, alla sconfitta del Fano. Allora, noi ci fermiamo qui, per quanto riguarda la rassegna stampa. Vi do appuntamento questa sera alle 20.30 con il Telegiornale, poi subito dopo invece avremo l'appuntamento con Dell'Onti, primo cittadino, Davide Dell'Onti, sindaco di San Lorenzo in campo. È tutto, grazie per averci seguito, a voi tutti gli auguro di una buona giornata. Grazie a tutti.